La meccanica, la stazione di controllo riesce a durla per niente. Non va, non va, va là. Va là? Sì, difatti, difatti. È con un ramarico, è comunque, dai. Non si è fatto a me da rumore. Peccato perché poteva essere un buon motivo per andare a visitare lo stabilimento della Fender. È lesanato. Ovviamente, la filosofia di Luciano è sicuramente invidiabile, dai. Vai, Federico, vai, Federico, comunque, dai. Sì, guarda qui in Dago, perché... Come penalità, come caso a Chave, la Fintri, e sono i Fintri che basta. Vedete la gommatura, come si accascia e scarica l'adrezza sul terreno. Sì, purtroppo non c'è il passino deliziale della potenza del corpo. Però ci auguriamo che il prossimo anno, prima di venerdì qua, Maffez! Sì, purtroppo, èra dentro. Ma ci sono... No, 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 no! Grazie a tutti.